Dov'è il sindaco? Avete nominato Stefano Manara dando di 97.000 euro di soldi pubblici, 97.000 euro all'anno, un uomo che aveva già 12 incarichi, adesso ne ha 14. Se ne vanno? Mi schietta, se ne va, giustamente. Ha appena venduto la paltina la sua baroncini contro le volontà di una signora che lasciava col nuovo attentamento e cappa, è vergognoso che in Unimola, dove abbiamo 11.000 disoccupati, ci siano persone con il tempo di un anno che avevano 14 incarichi, il sindaco dovrebbe continuare a firmare le sue divisioni, perché non ne va in aula, ma finisce a 5 incarichi di un sindaco di Unimola, a 5 incarichi, non è mai in aula, a Unimola esiste, un'associazione a delinquere che si è usata a trovare i cittadini moresi. Io, se mi invitano gentilmente gli amici della Polizia Municipale, io, se mi invitate voi, non esco perché io vi contesterò da qui, nei secoli di città. Un applauso alla Polizia Municipale, anche loro sono stati messati, ma l'assessore al bilancio 1 faceva ricorsi contro le loro ferie, perché il Comune di Unimola non gli faceva recuperare le ferie, l'assessore al bilancio ha fatto ricorso contro i suoi dipendenti, quindi anche loro sono delle vittime di questo sistema. A Imola è un sistema mafioso. Cialtroni!